Musica Venerdì 7 novembre, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa, occhio ai giornali Tra poco vedremo le notizie, subito il santo di oggi, oggi è Sant'Ernesto Il sole è sorto alle 6.51 e tramonterà alle 16.52 Oggi sarà una giornata caratterizzata dalla pioggia, dal cattivo tempo Avremo precipitazioni diffuse su tutta la regione Mar Che ha anche carattere di rovescio di temporale, più probabili nel settore meridionale In diminuzione delle temperature, eventi di brezza leggera o tesa nord-occidentale Mare mosso per domani, sabato 8 novembre Il maltempo lascerà spazio alla variabilità, variabilità diffusa Solo residui piovaschi, occasionali, rovesci più probabili lungo la fascia costiera Con fenomeni che si esauriranno nel corso del pomeriggio Le temperature stazionari e leve diminuzioni I venti dai quadranti settentrionali di brezza leggera o tesa lungo la costa Il mare sarà mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio Per la giornata di domenica avremo cielo parzialmente nuvoloso al mattino Con nubi basse e prevalenza di sereno nel pomeriggio Le temperature minime stazionari e massime in aumento Il mare sarà poco mosso o quasi calmo Per i prossimi giorni la tendenza sarà quella di una temporanea espansione Di un'area di alta pressione Che quindi porterà un generale miglioramento del tempo Per l'inizio della settimana prossima Facendo transitare solo nuvole stratificate Quindi innocue 3 milioni di euro per le scogliere Il Carlino di Fano Sbloccati i finanziamenti dalla regione per la difesa della costa La costa che è stata interessata da una mareggiata nei giorni scorsi Sarà rinforzato il tratto della foce del fiume Metauro Dal fiume Metauro al porto Sarà un Natale senza luci Con le luci spente Critiche al Comune da parte dei commercianti Del comitato Apriamo il Centro Sulle luminarie natalizie Critiche al Comune Non sono stati ancora raccolti i soldi Mentre sull'ospedaletto interviene l'ex assessore Fabio Guccioni Che dice costa più restaurarlo che farlo nuovo E appunto Fabio Guccioni Che è un ex assessore ai servizi sociali della prima giunta a Guzzi Fanno sorridere le varie ipotesi sul futuro Di quel casermone vuoto che si trova in via Tazzoli Vicino all'ospedale Santa Croce Appello degli animalisti Salvate quegli alberi sacrificati alla ciclabile Sulla fanofenile Saranno abbattute 39 piante Interviene Orazzi della Lupus in Fabula Che dice si doveva spostare la pista Dalla parte opposta Ora si giochi sulla larghezza Mentre un lettore del quotidiano bolognese Scrive fermate l'uomo che rovina i giardini Perché rovina i giardini? Perché va a cerca di metalli Alla ricerca di metalli È una nuova moda Cercare tesori come monete o lingotti d'oro Bucando e devastando il prato Dei pochi e mal ridotti parchi fanesi Bulli in azione Pretendono la bici E poi gli strappano via pure 50 euro Dalla pagina di Pesaro A processo per rapina aggravata Un ventenne marocchino È successo a Pesaro E a farne le spese È stato un diciannovenne Che ha avuto la prontezza però Di raccontare tutto ai suoi genitori Da cui poi è partita la denuncia L'aggressione si è verificata Di giorno in piazzale Matteotti Rubano e poi occupano la casa Sloggiano solo con la polizia Il giudice non convalida gli arresti E fa scarcerare quattro rumeni Lo sconcerto da parte degli agenti Della polizia che per tre volte Consecutive si vedono non convalidare Gli arresti dallo stesso magistrato L'incredulità dell'inquilino Nel vedersi questi intrusi Dentro casa e addirittura con le chiavi Cambiamo giornale Il Corriere Adriatico La pagina di Fano Protesta dei grillini Sciopero delle emozioni Omiccioli, Ruggeri e Ansuini Dicono si limitano a copiare le nostre proposte È una maggioranza senza idee Non resteremo inerti Ma saremo sempre vigili Su tutte le scelte che farà la Giunta L'altra pagina del Corriere Adriatico Si occupa dei furti Irruzione Irruzione in sequenza Negli appartamenti di una palazzina Emergenza senza fine I ladri stavolta hanno colpito Nel tardo pomeriggio A Ponte Morello di Cartoceto Frazione lungo la Flaminia Sono stati manomessi gli infissi E le persiane Rubati anche oggetti preziosi E anche del contante Dieci figure per la consulta dello sport In tanti all'incontro Sul nuovo regolamento L'assessore del Bianco Assessore allo sport del Comune di Fano Chiede un progetto a tutto campo Sempre dal Corriere L'altra pagina di Fano Massima tutela per tutti i ragazzi Lami e l'episodio di Sant'Orso Lo scuolabus Dicono dall'azienda dei trasporti Non era pieno C'erano le porte ostruite Il direttore Benedetti Segnalazioni dice utili Pronti ad essere sempre più attenti La pagina di Pesero del messaggero Spacca PD Il duello continua Il governatore presenta il report Sulle marche del futuro E rilancia il rimpasto Non è tempo di pantofoli Dice Comi Invece il segretario regionale La giunta resti così com'è Ma senza indennità A centro pagina La fotografia è per Camilla Fabri Del Partito Democratico Che è stata aggredita Insultata dai 5 Stelle Fuori dal Senato Hanno augurato tumori ai nostri figli È inaccettabile La senatrice Fabri racconta Quanto è accaduto fuori dal Palazzo Madama Nella giornata di mercoledì Ancora profughi La copp dice Servono La copertiva Servono vestiti invernali Sono arrivati altri 30 rifugiati La labirinto Chiede aiuto ai cittadini Per l'accoglienza Sono 30 profughi Che sono arrivati ieri a Pesero Un numero che si aggiunge Ai migranti Già presenti sul territorio E che si avvicina Alla capienza massima Stabilita dal bando Della prefettura Ne sono arrivati 30 ieri E 28 sono stati trasferiti Al centro di San Lorenzo Che dopo l'apertura Delle buste del bando Ha dato disponibilità Proprio per 28 posti Le pagine interne Del messaggero Questura e caserme Il sindaco Ricci Ci riprova Svela Presto il ministro Pinotti Sarà a Pesero Per un sopralluogo sulle aree L'operazione si può fare Il sindaco ricorda Che la Cialdini Ospitava oltre 1500 militari Nel 2009 E che oggi sono soltanto 600 E dunque ci sono a disposizione Tanti posti Appello a NTV Per quanto riguarda il treno Italo Italo non lasci La linea adriatica Il primo cittadino guida La mobilitazione Contro il disimpegno previsto Per dicembre E sui social network In furia la protesta Circondata e insultata La strada dei 5 Stelle Hanno La senatrice Fabri Racconta I brutti momenti Fuori da Palazzo Madama E poi da Marotta Invece Sempre dal messaggero I ladri saccheggiano Il furgone Dell'idraulico Ladri ancora in azione Nel mirino dei Balordi E' finito il furgone Usato da un giovane idraulico Originario di San Costanzo Che da pochi giorni Ha avviato il lavoro A Mondolfo E a Ponte Sasso Alcuni ignoti Hanno trafugato Dall'interno del furgone Fiat Martelli Tronchesi Viti E quant'altro Per un totale Di 5 mila euro Di refurtiva Chiudiamo Con la pagina di Fano Del messaggero A centro pagina Sport Il regolamento Piace Alle società Giudizi positivi Dopo il primo incontro In comune Il passaggio più delicato Sarà La trasformazione In temporane Delle concessioni Di 15 impianti Saccheggiato Un condominio Nella zona di Ponte Murello E poi Acido Sulle retti Dei vongolari Delle vongolare Vongolari minacciate Il gruppo Pesca Denuncia Un clima Pesante Al porto Denuncia Queste minacce Queste vessazioni Al porto di Fano Il danno provocato Dalla sostanza corrosiva Ammonterebbe Diverse migliaia di euro E richiederà Almeno 15 giorni di lavoro Per riparare Le maglie Compromesse Le maglie della rete I commenti Sull'episodio Sono ispirati Alla massima cautela Ma si percepisce La preoccupazione Per la gravità Di questo gesto E poi Sempre su questa pagina Del messaggero Anche la ciclabile Un altro tracciato Era possibile Gli ambientalisti Sulla Fano Fenile Dicono La loro Sul taglio Dei 40 alberi Che consentirà Appunto La realizzazione Della pista ciclabile A Fenile È tutto Grazie per aver seguito La nostra rassegna stampa Buona giornata Ci vediamo stasera Alle 20.30 Con occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti